Siamo nello stand EWTS, sono prodotti che ci aiutano nella nostra vita da camperisti, prodotti disgreganti per le acque nere, abbiamo il prodotto per le acque grigie, quindi due prodotti eccezionali che sto usando ormai di anni e visto che sono un fiero e c'è lo stand, perché non dare la parola a loro e farci spiegare da loro cosa sono? Quindi non li spiego io questa volta, passo la parola, così almeno spiega lui tutto. Ciao, grazie innanzitutto per questa opportunità, per il video e la pubblicità, allora per chi non ci conosce WTS è un'azienda che produce prodotti ecologici che vanno a trattare i serbatori di recupero, abbiamo iniziato con il prodotto per le acque nere che è un prodotto che è già in commercio dal 2019 e che conoscete magari prima nella confezione nera, adesso non è cambiato assolutamente niente per quanto riguarda il prodotto, solo la confezione che adesso è completamente riciclabile nella plastica, prima erano accoppiato tra plastica e alluminio quindi andava nell'indifferenziata, adesso lo abbiamo cambiato e è solo la colorazione. Il prodotto è un prodotto ecologico per chi non lo conosce, enzimatico e batterico, quindi non utilizza sostanze chimiche per la disgregazione ma proprio questi microrganismi, lo rende un prodotto uno che non nocivo sulla natura e due molto performante col caldo. Diciamo che il problema sostanziale per la protezione dei camperisti è il caldo, che ci sono i cattivi odori sia delle nere che delle grigie, con questo prodotto qui più fa caldo, poi il prodotto va a attivarsi e di sgregare in maniera ecologica e questo ce lo puoi anche sicuramente confermare. Sono al quarto giorno, anzi al quinto giorno di cassetta sono da solo, quindi mi è durata cinque giorni, il quinto giorno non puzza, quindi perfetto. E diciamo che questo fine settimana qui siamo arrivati anche ai 40-45 gradi del camper, quindi entrare nel camper, usare il WC, avere il profumo di Big Bubble, diciamo molto gradito come cosa, quindi questo è molto meglio. E quindi il prodotto delle acque nere, noi invece abbiamo la novità di questa fiera. Molto bello vicino. Esatto, anche noi siamo molto attenti non solo nell'avere un prodotto ecologico ma anche utilizzare un packaging ecologico, quindi noi utilizziamo un packaging flessibile come questa busta, qua perché uno togliamo il 70% di uso di plastica ma anche il volume è sul camper. Colino. Esatto, quindi è molto più compatto e ha un meno in gomma rispetto a un flacone di icolo o un barattolo. La novità della fiera è questa bellissima bustina qui che è un prodotto per l'acque grigie, è un formato polvere. Eccolo là in diretta, stupendo anche nell'immagine tutto, è un prodotto che praticamente è in polvere, voi versate la polvere all'interno di un lavandino che è problematico o perché non scarica bene o perché c'è una risalita di cattivi odori che spesso ci capita, specialmente d'estate, ed è quasi più invasivo di un cattivo odore del WC perché rimane nella zona living, giusto? Conferma. E' sempre perché poi, specialmente mentre viaggi, tende a risalire l'odore. E quindi, avere le acque grigie che non puzzano è abbastanza fondamentale per chi usa il campo, specialmente per chi lo usa molto, tantissimi giorni. Certo, e quindi questo prodotto qui è un prodotto effervescente, lo mettete all'interno dello scarico, aprite l'acqua in 10 secondi, il prodotto si scioglie, inizia l'azione effervescente che va a sanificare e pulire le tubazioni dai biofilm che si creano o dai dentifrici, saponi, ma anche dal cibo che mangiamo, li pulisce, lascia un residuo batterio statico all'interno della tubazione in modo che questi batteri non si vanno a riproporre ed è una profumazione molto gradevole al mojito e una colorazione leggera, quindi anche lo scarico, scaricherete acqua profumanti come il mojito e poi con una leggera colorazione, bella anche visivamente. Non va bevuto però, perché il profumo è buono ma non va bevuto. Non va bevuto, poi ecco, l'astuccio come l'avete visto prima contiene 8 buste all'interno, anche questa qui, se riusci a far vedere il fondo della scatoletta FSC certificato con un inchiosso di soia, quindi un packaging con un minimo impatto ambientale. Quindi questo è quanto per le nostre novità, grazie tanto per averci seguito, passo la parola. Una volta provato è difficile tornare indietro. Ciao ragazzi, al prossimo.